Ciao Vittoria! Ciao Alberto! Spero che il vostro talento sia all'altezza altrimenti questa volta mi toccherà improvvisare i maghi per riparare la nuova! Dai ci proviamo! Grazie! Prego, andiamo in ufficio! Ok! Prego! Grazie! Le chiavi della mia auto? Ti vedo agitata! No ma devi stare tranquilla, qui sei in buone mani! Mi fido, vipitemi! Tranquilla, abbiamo il nostro metodo! Ci vediamo domani! Grazie, buon lavoro! Buona serata! Dai ragazzi che abbiamo una consegna da fare! Ladies and gentlemen, madame et messieurs, signori e signori, benvenute e benvenuti alla carrozzeria veronese di Torino! Noi qui oggi faremo la storia! Per la prima volta un vero match di wrestling con i nostri lottatori per riparare le vostre auto! Qui con me oggi, alla mia destra, the one and the holy, violento! E qui con me, alla mia sinistra, il mastodontico Mambo! E qui con me, direttamente dall'alto, lui è Peppe Ferga! Signore e signori, diamo il via al nostro match! Amass bloca! L'alto dal nuovo match, Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.